La giovane star Miley Cyrus, protagonista della serie tv della Disney Channel Hannah Montana, è stata a Roma per presentare il film della serie che interpreta da tre anni. Accompagnata dal padre, la rock star Billy Ray, anche lui interprete del film. Nonostante Miley abbia solo 16 anni, è già una vera star. Centinaia di ragazzine l'hanno attesa sul red carpet del film. L'attrice ha ammesso di aver avuto una sorta di crisi d'identità con il personaggio che interpreta. L'attrice ha ammesso di aver avuto una crisi d'identità con il personaggio che interpreta da tre anni. Allora, come se non è stato un momento per il film, io ero pronti per filmare. Io credo che era il momento per me di aver avuto una volta a Nashville, perché ho bisogno di avercordato un po' di break. Quindi non mi chiedevo dire che sia un'identità di crisi. Mi chiedevo dire che sia il momento per Miley, che sia un'idea di essere Miley, invece di essere questa cosa, e di aver guardare una piaccia e una bocca di un rinforzamento. Non sono stanca di questa doppia vita Fai quello che ritiene giusto Mi sento che non ho bisogno di un paio solo per tornare a casa e rilassare un po' quindi mi sento che tutto funzionava perfettamente e come mio padre ha detto è stato molto come la mia vita reale Miley ha già scritto il suo primo romanzo dove racconta la sua storia personale Perché decidi scrivere una storia sulla tua storia personale? Penso che è qualcosa che la gente può raccontare con me più Così tu e Miley siate molto vicine Non immagini quanto Più star di così